Senti ai gazebo, anche l'assessore al turismo della provincia di Bergamo, Giorgio Bonasoli. Eccolo. Intanto oggi è una giornata bella per fortuna, ma l'ultimo periodo non l'è stato sicuramente. Per quanto riguarda l'agricoltura ci sono stati molti danni per il turismo? Ma il turismo Bergamo ha delle soddisfazioni. Diciamo che è un dato interessante, sul lago di Iseo gli stanieri sono aumentati ancora del 4,5%. Quindi sicuramente le iniziative di promozione che legano la città e la provincia stanno funzionando, ci stanno dando le soddisfazioni. Nonostante il turismo a livello nazionale soffra, Bergamo è sostanzialmente in pari, in tenute, quindi questo non può che essere un segnale positivo. Le nostre montagne si sta sviluppando molto tutto quello che è l'extra alberghiero, bed and breakfast, attività tipo agriturismi. E sicuramente queste sono importanti perché danno da lavoro poi ai bergamaschi, quindi non alle grandi catene, ma alla gente bergamaschi che si sanno rinnovare in questo momento e stanno capendo che il turismo è una nuova fonte di reddito e ci si stanno mettendo in gioco. La provincia è a loro fianco con la Turismo Bergamo, con uno strumento telematico nuovo che può sostenerli attraverso promozione ma anche vendita di quello che è il loro prodotto. Quindi una novità a livello nazionale. Speriamo che funzioni e possa essere davvero d'aiuto anche ai giovani che vogliono intraprendere nuove iniziative nel mondo del turismo. Quindi il turismo fa da traino in provincia, farà traino sia per le scelte politiche che per le scelte personali dell'inventiva e della gente? Di vai di sì, esistono tanti giovani soprattutto che magari sfruttando anche nel momento di difficoltà magari sono rimasti senza lavoro, si sono aperti gli occhi, hanno scoperto nuove attività come il kenyoning in Val Seriana quindi ora si può scendere nei torrenti sdraiati nell'acqua come succede sia in Piemonte che in Trentino anche a Bergamo oppure una serie di guide turistiche che ci stanno informando infatti agli esami di abilitazione c'è sempre più richiesta, sempre più partecipazione da parte proprio dei bergamaschi questo denota un entusiasmo, un gioco di squadra che è importante perché il turismo nasce dal basso deve essere sentito dal territorio perché se il turista non sente che il territorio è pronto ad accoglierlo non funziona.